Ben arrivati su sportitalia.com, la seconda versione del nostro sito. La prima così come la nostra emittente è andata avanti per tre anni, quindi era giusto ripensarla un po' anche in funzione di quelle che sono le indicazioni che ci avete dato. Con l'Oscar del calcio abbiamo toccato un picco di visite straordinario che sinceramente non ci aspettavamo neanche. Questo ci ha costretto a ripensare le cose. Fino ad oggi avete visto un sito molto votato all'informazione, soprattutto all'informazione in tempo reale. E questo continuerete a vedere sul nostro sito grazie alla partnership con Eurosport, che è il più grande gruppo editoriale del mondo, che si occupa di notizie sportive, con il quale continueremo a collaborare. Quindi notizie in tempo reale, ma anche video, tantissimo video. Quello che vedete alle mie spalle è quello che con il tempo diventeremo, quello che vogliamo diventare. Cioè un sito di forte impatto a livello di immagine, ma molto organizzato. E cliccando nella parte destra del sito, dove vedete i nomi dei vostri sport preferiti, quelli che Sport Italia vi ha sempre abituato a seguire, avrete la possibilità di vedere video e di interagire con la nostra redazione. Quindi video che riguardano la Coppa Libertadores, piuttosto che il campionato argentino, piuttosto che il campionato brasiliano, il campionato olandese. Tutti gli appuntamenti che ormai siete abituati a seguire su sportitalia.com e sulla nostra emittente. E ovviamente blog, per poter non soltanto leggere di internet, ma anche scrivere di internet. E come il calcio, il basket e tutte le altre grandi esclusive della nostra emittente. Un'altra cosa cercheremo di fare da ora in poi, anzi vi promettiamo che la faremo, sarà la web tv in televisione e la tv nel web. Cercheremo di rendere queste due caratteristiche, che hanno sempre fortemente il contraddistinto Sport Italia, sempre più in comunicazione e sempre più in relazione tra loro. Grazie per essere stati con noi fino ad oggi. Vi invitiamo a tornare sempre più spesso su sportitalia.com Grazie. Grazie.